Musica Sono nella sede regionale dell'AsiaUSB con Ilenia Sina, autrice del libro Chi comanda Roma? Titolo esplicativo e anche denuncia, quindi glielo chiediamo direttamente a lei. Chi comanda Roma, Ilenia? Sì, questa è una bella domanda. Faccio una piccola promessa per far capire perché questo titolo, che molti mi hanno chiesto se non mi sembrava un po' ambizioso. Questo libro fa parte di una collana che si intitola appunto Chi comanda A, che è focalizzata sul potere, è un esperimento editoriale che si basa sul potere locale. Quindi prima di Chi comanda Roma sono uscite anche Chi comanda Torino, Napoli, Firenze e Milano. Quindi da qui il titolo. In Chi comanda Roma ho deciso di focalizzare la mia attenzione su quello che, diciamo, quando parli con i romani e chiedi Chi comanda Roma, la prima risposta che ti danno è proprio i palazzinari. Quindi da qui è nata l'idea di provare ad approfondire il tema, che se vogliamo usare un termine un po' più tecnico è la gestione del territorio, l'urbanistica. Infatti appunto nel tuo libro centrale è il tema dell'edilizia, dei rapporti tra grandi costruttori romani o non, le istituzioni, il territorio, le banche, insomma questa piovra, se vogliamo chiamarla, degli affari pubblici e privati in tutte le grandi città e soprattutto a Roma dove... Certo, sì esatto, quello che hai detto tu è preciso. Ho scelto proprio questo terreno come punto di osservazione privilegiato dell'incontro tra gli interessi pubblici e quelli privati. E il quadro che ne esce purtroppo è fin troppo risaputo, ovvero che troppo spesso le politiche pubbliche rispondono più agli interessi dei gruppi di potere privato piuttosto che di quelli della collettività. Il punto nel libro sta nel tentativo di analizzare appunto in che modo queste politiche pubbliche hanno poi modificato negli anni la storia anche di questa città. Ricordiamo anche l'editore che è Castelvecchi del tuo lavoro. Mi dicevi appunto mentre realizzavi questo libro che la difficoltà più grande è stata non tanto nella modalità di indagine quanto proprio nel reperire le informazioni perché anche in questo appunto agisce una sorta di potere se non altro di ostruzione per reperire i dati. Sì, reperire le fonti è sicuramente uno dei punti più difficili. In questo tema un altro degli elementi difficili è anche quello di capirle. Molto spesso bisogna passare tante ore, tanto tempo sopra, penso a delle delibere piuttosto che a dei documenti tecnici. Infatti ci sono anche dei capitoli nati proprio anche dall'analisi di alcune di queste delibere. In altri casi invece si tratta proprio di riuscire a farsi raccontare magari dai diretti interessati appunto ciò che diciamo si vuole indagare, si vuole raccontare. Ti faccio l'ultima. Negli ultimi due anni con la quirsi della crisi, soprattutto a Roma, la questione abitativa è diventata centrale. Occupazioni e sgomberi appunto che si succedono. E poi appunto leggendo il tuo libro ci rendiamo conto della mole sterminata in realtà di cubatura di cui questa città ormai dispone. Sì, uno dei punti del libro è proprio quello dell'emergenza abitativa. Nel libro cerco anche di raccontare proprio come questa emergenza abitativa non sia nata solamente con la crisi ma sia nata molto prima, proprio nel momento in cui il mercato immobiliare è romano e non solo perché sarebbe sbagliato circoscriverlo solo a questa città, anche se è stata una piazza favorita. Proprio in quel momento è nata ed esplosa l'emergenza abitativa che naturalmente con la crisi sta raggiungendo anche classi che magari, tipo la classe media che magari prima non era interessata. Oggi con la crisi ci accorgiamo della mole di invenduto proprio perché queste case non vengono più vendute. Ogni volta che c'è un'ondata di nuove occupazioni ci si accorge come questa città sia nell'appena costruito che nel costruito in anni addietro è semivuota. A noi di Libera TV ti ringraziamo per questa intervista e soprattutto consigliamo il tuo lavoro Chi comanda Roma di Ilenia Sina che peraltro si può trovare ovunque, quindi è di facile riferimento. Molto grazie, Leni. A voi.